Ciao ragazzi, un altro usato dock di Harley Davidson Monza, una Breakout 103 1690cc ABS, la Breakout è famosa nella famiglia Harley per la gomma posteriore da 240 di serie, che qui è evidenziata da un mortatarga rastremato, ha le frecce Rizoma Mini Bullet, a LED, i terminali di scarico della Van Senaes per tuonare a dovere, come deve tuonare una moto con il 240, le pedane cromate tutte Harley Davidson e le manopole grip sempre dell'Harley Davidson, Vivid Black è una moto del 2015, ha percorso solamente 5.900 km, è in vendita a 17.500 euro, garanzia a 12 mesi, tutto l'importo è finanziabile, volendo, vi aspettiamo dalle nostre parti per un'altra bella occasione. A presto, Ivano Arle di Vizio Monza, ciao a tutti ragazzi!